Allora Cristiano, è finita questa grande fatica di questo torneo del K1 Max, mi sembra che sia andato tutto bene, il livello è stato molto alto, spettacolare, tantissima gente, tantissimo pubblico, mi sembra che sia un successo, che cosa ne pensi? Sì sicuramente arrivati a fine serata tirando le somme sembra proprio che sia un grande successo, questo successo qui non me lo posso prendere tutto io ma sicuramente col mio socio Maurizio Ricci soprattutto con aiuto immenso di Roberto Fragale perché mi è stato vicino fianco a fianco minuto per minuto su tutto, veramente non ho le parole per poterlo ringraziare sia lui che Maurizio Ricci perché sono stati spettacolari. Come tutte le cose non arrivano mai, come tutti i grandi successi non arrivano mai per merito di una persona ma solitamente di un gruppo di persone ma quello che ti posso dire è che forse c'è anche un merito anche nel saper trovare le persone giuste e sapersi circondare da persone giuste apposta quindi anche per questo ti facciamo i complimenti. Grazie mille, comunque sicuramente quello che hai detto è molto giusto. Ok in bocca al lupo, alla prossima. Ok in bocca al lupo, alla prossima. Grazie mille. Siamo qua con Maurizio Ricci che se Cristiano è stato il cervello eccetera ma Maurizio Ricci è stato molto importante e determinante vorrei dire per quanto riguarda tutta l'organizzazione perché è colui il quale non solo ha diretto l'organizzazione all'interno del ring ma è la persona importantissima che si preoccupa di recepire diciamo così il denaro dal il vildanaro no dalle dalle tante ditte aziende eccetera è un compito un po' in grado anche perché per quanto riguarda lo sport sono compiti molto più gradevoli quelli di occuparsi dei ragazzi dell'organizzazione eccetera più in grado più in grado ma importantissimo senza il quale non saremmo riusciti a fare niente questa è stata una grandissima serata sia per quanto riguarda il pubblico sia per quanto l'organizzazione sia per quanto riguarda anche e soprattutto il livello tecnico degli atleti. Volevo sapere quindi da te quali sono state le difficoltà maggiori che avete riscontrato per arrivare ad ottenere tutto questo Ti ringrazio innanzitutto sono molto felice di come è andata la serata credo che il livello come avete già detto voi sia stato veramente alto e questo devo ringraziare te Roberto perché ci hai dato una mano a 360 gradi organizzandoci la maggior parte degli incontri scegliendo assieme a noi gli atleti che hanno permesso di dare questo spettacolo eh direi oltre la media permettetemi di dire oltre la media sono molto contento perché con molta fatica abbiamo recepito un parterre di 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 persone che non solo sponsorizzano questo sport col vile denaro come giustamente dicevi te ma perché si sono appassionati che addirittura seguono gli atleti anche nella scuderia vengono li piace vedere allenare anche quando fanno come si dice i cosiddetti guanti per cui spero che questo sia un consolidare quello che che te hai già iniziato da tanti anni ma che soprattutto sia l'inizio di un grande sviluppo di questo sport perché sicuramente questo sport è fatica e questi ragazzi si meritano il meglio Sicuramente siamo un grande movimento di potente potente grande energico eccetera sicuramente anche grazie soprattutto a persone come te a Cristiano Lenzi e tanti altri sicuramente riusciremo ad ottenere tutti i risultati nei traguardi che ci siamo prefissi grazie Maurizio grazie a te Roberto